Un altro pareggio interno contro il Pescara per 0-0. Come vediamo il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Considerando da dove proveniamo, sicuramente mezzo pieno. Contro una squadra come il Pescara, forte nei singoli, nel gioco, nella classifica, credo che sia veramente mezzo pieno. Il problema resta sempre il gol? Assolutamente d'accordo e infatti lo staff tecnico sta lavorando soprattutto per trovare delle soluzioni offensive e alternative. Se in avanti si fa fatica però almeno la squadra nella gestione della situazione difensiva sta facendo passi in avanti. Se al più presto riusciamo a migliorare la fase offensiva probabilmente abbiamo già le capacità per essere molto più attenti in fase difensiva. L'inserimento di Aldo Papagni nello staff tecnico che cosa può portare di nuovo a questa squadra? Io credo soltanto quello che è la mia esperienza in questi campionati, in questa piazza, in questo bel rapporto che c'è tra la città di Andria e il sottoscritto. E quindi soprattutto tutto quello che c'è da trasmettere in termini di anima, di affettività e di amore per questa squadra. Resta comunque il suo supporto per mister Trogini? Ma sicuramente, come ho detto già in altre circostanze, il mister quando mi ha incontrato per la prima volta all'allenamento della primavera mi ha abbracciato e ha detto mister tu devi stare accanto a noi perché sei una nostra risorsa. La gara di domenica con il Messina può diventare da ultima spiaggia per l'Andria? Assolutamente no, deve essere una delle 11 finali che mancano, dobbiamo credere, noi dobbiamo essere convinti e consapevoli che abbiamo la possibilità di uscircene, sarà sicuramente un'opera difficoltosa ma dobbiamo crederci.